Una violentalite scoppiata ieri pomeriggio sul lungomare di Casalvelino Marina tra due turisti napoletani rispettivamente di 42 e 45 anni. L'alterco, inizialmente di natura verbale, è rapidamente degenerato fino a coinvolgere violenza fisica con i due uomini che sono arrivati a lanciarsi bottiglie di vetro. Il bilancio della Risa ha visto uno dei coinvolti riportare un taglio al piede mentre l'altro ha subito lievi feriti al volto. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi con l'arrivo dell'ammulanza della Misericordia di Vallo della Lucania e dei carabinieri della locale stazione del reparto territoriale di Vallo che hanno cercato di ristabilire l'ordine e prestare la dovuta assistenza medica. Tuttavia, uno dei due uomini ha rifiutato di ricevere soccorso nonostante le ferite riportate. L'altro è stato trasferito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. I militari hanno raccolto tutti gli elementi utili per chiarire la circostanza della lite e valutare eventuali provvedimenti. L'episodio ha suscitato non poca attenzione tra i residenti e i turisti presenti che hanno assistito attoniti alla scena di violenza sul lungomare solitamente tranquillo e frequentato da famiglie.